Buongiorno! Allora, effettivamente non è giorno giorno nel senso le nove, ma... Telefono, aspettate! Benissimo, vi dicevo appunto, non sono propriamente le nove, ma è tipo le undici e qualcosa, infatti devo scappare perché devo andare a prendere i fiori per stasera, che facciamo, abbiamo fatto un mazzo di fiori per la maestra di danza che sarebbe mia cugina, però insomma abbiamo fatto i fiori, che di solito si fa così alle maestre di danza e vado a prendere il pane a mia suocera e poi vado a prendere tutti e due i bimbi e vengo a pranzo de corsa come al solito, oggi, cioè io ho più freddo dell'altri giorni, cioè ho la cannottiera, la maglietta, la felpa felpata dentro e sto morando di freddo con i riscaldamenti accesi, ho le calzamaglie e sopra i pantaloni della tuta e sotto c'ho anche questi, dov'è? Aspettate che non vedete una mazza e sotto c'ho anche questi, eccoli qua quindi praticamente sto morando di freddo ma sono imbacuccatissima e comunque adesso vado perché è tardi allora sono in macchina davanti alla scuola perché si muore dal freddo e adesso ah sai, perché c'era la recita niente, adesso aspetto perché mancano tipo dieci minuti prima di prenderli e nel frattempo ho preso il mazzo di fiori dopo ve lo faccio vedere a casa perché qui è una cosa improbunibile farvi vedere ho preso il pane a mia suocera, la pizza ovviamente e niente, adesso vado adesso aspetto un attimo aspetto un attimo e poi prendo i bimbi e si va a casa e ricomincia il macello comunque ho lasciato in carica il vlog di ieri quindi voi sicuramente lo vedrete prima io faccio sempre sto discorso però non mi rendo conto che voi lo vedete prima quindi non serve che io faccia questo discorso perché lo faccio vabbè comunque sì, adesso aspetto, sento un po' di musica vorrei precisare che io ho i guanti e ho le dita ghiacce ugualmente ho le dita congelate e non so come fare quindi vi prego aiutate, mi sto congelando guardate che bello che è questo mazzo cioè è troppo bello aspettate che ve lo prendo in mano cioè guardate che bello che bello questo è il mazzo per la maestra di danza ora sotto è fatto in questo modo è fantastico poi è verde io adoro il verde e niente adesso lo lascio un attimo qua poi dopo pranzo lo devo mettere in un vaso poi ho trovato questo nella cassetta quindi ora lo lo guarderò così almeno vedo se per caso c'è ancora lo sconto sul pezzo del mobile del soggiorno l'acqua sta bollendo e di là abbiamo due teppistelli niente male due teppistelli niente male guardate questo dove è salito è salito sopra il mobile ma tu cosa ci fai sopra il mobile chiudi e scendi forza no perché sono di aurora scendi te lo prendo io scendi giù ma ora ma possibile c'è un figlio matto io non so come ha fatto penso che abbia usato questo come scala è arrivato qua sopra per prendere lì sopra ci sono delle cose per prendere là sopra tu sei tutto matto tu sei tutto matto proprio per ritornare al discorso di ieri vabbè lei intanto si è messa le ciabattine si è levata il grembiule sì fino a due secondi fa c'era era tutto ordinato adesso è tutto già un caos però così è questa è la vita oggi lo chef oggi lo chef propone ovvero io propone pasta ioio peperoncino per me e pangrattano buon appetito buon appetito mi fai un video anche a me buon appetito Ale buon appetito buon appetito Aurora buon appetito allora stiamo andando stiamo andando dalle prove con Aurora scusate il tremolio ma sto in macchina e non so neanche quanto siete stabili comunque abbiamo fatto anche gli ultimi acquisti dell'ultimo secondo perché giustamente Aurora mi ha ricordato che mancava la lacca e le forcine e quindi siamo andati a prendere la lacca e le forcine Aurora è qua dietro comunque e niente ora stiamo andando a fare le prove ho lasciato Alessandro dalla nonna così magari dorme se no stasera chi lo regge una volta fatte le prove torniamo a casa ci prepariamo andiamo a prendere la pizza ci andiamo e poi riandiamo allo spettacolo vero e proprio ora sono indecisa se fare i capelli Aurora subito a casa e poi magari risistemarli nel caso si smontano lì stasera direttamente in palestra oppure se farglieli direttamente in palestra perché farglieli direttamente in palestra presuppone che almeno prima delle 8 noi dobbiamo stare lì e non so se ce la facciamo perché mia suocera dovrebbe venire con noi poi non so se andremo con due macchine o con una perché non so se Alessandro reggerà non so se i miei rimangono fino alla fine e quindi per forza di cose devo valutare se farglieli prima o farglieli dopo io intanto l'occorrente l'ho preso ce l'ho preso quindi volendo ho comprato anche il nastrino blu stamattina perché dentro di me ho detto ma ora è possibile che dobbiamo per forza mettere quell'altro che non è propriamente lo stesso colore del tutù e quindi alla fine l'ho preso il nastrino quello uguale al suo colore di tutù ecco quindi niente stiamo stiamo andando stiamo andando siamo quasi arrivati e niente non posso farvi vedere nulla perché fondamentalmente ci sono altri bambini e altre bambine e non non posso non posso non me la sento e non non mi prendo la responsabilità quindi purtroppo non posso farvi vedere il saggio di Aurora però ve lo commenterò però vi farò vedere sicuramente vi farò vedere com'è vestita cercherò di farle una mini ripresa quando è vestita magari prendendo solo lei in maniera tale da riuscire a farvi vedere un attimino com'è detto ciò andiamo e ci vediamo più tardi così vi aggiorno e vedete tutto il resto della famiglia riunito perché per ora siamo solo io e lei e sono esattamente le tre e mezza quindi il tempo vola vi faccio vedere come mi sono truccata io ho fatto un trucco semplice con la naked uno l'ho fatto ho messo l'illuminante di becca che qui riuscite a vederlo non ho messo nulla sulle labbra perché devo cenare dopo metterò la tinta una tinta in maniera tale che non vada via sono vestita così sono vestita così ho questa maglia rosa i pantaloni e i distivali perché devo star comoda rinforchiamo gli occhiali vi faccio vedere come è truccata Aurora ovviamente eccola lei è pronta capello fatto pieno di lacca e l'ho anche truccata io ho messo la matita azzurra come il suo tutù il mascara gli ho fatto anche le guanciotte lui finalmente ha dormito un pochino così almeno dopo non dà di matto adesso ceniamo con la pizza perché siamo di corsa ceniamo con la pizza il babbo è pronto io non sono l'unico che non ha pettinato i capelli vabbè adesso loro mangiano loro mangiano noi se riesco vi faccio dopo una piccola ripresa di Aurora col vestitino col tutù insomma di danza e niente ci vediamo dopo l'unico 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 Grazie a tutti.